Ram Lunar Edition, scusate per la voce, sono un po' giù di voce, perdonatemi. Andiamo a descriverlo, bellissimo, orgoglioso la scritta Ram qua davanti, sulla calandra, paraurti, uso gravoso, con i grilli pronti all'uso, motore, ovviamente, supercharger, poi lo vedremo, però con la bocca di aspirazione, qua con delle luci che di notte fanno la loro scena, presa d'aria anche qua sui laterali, scritta TRX sul cofano, stupenda, e poi è un immancabile, 6.2 litri supercharger, che è il motore che monta Hemi, con 702 cavalli. Andiamo a vedere di lato, pneumatici da 35 pollici, stupendi, adatti per il fango, sospensioni adatte e pensate per il fuoristrada, quindi è addirittura rialzato, guardo fino a 89 centimetri, mi dicono. Una macchina comunque molto lunga, cassone da un metro e quaranta, con la doppia camina che dopo andremo a vedere. Gancio traino incluso, può trenare fino a 3500 kg, ma potrebbe trenarli molti molti di più, in effetti poi negli Stati Uniti lo si usa anche per trenare dei billici, ma quello poi è un altro discorso ed è un altro mondo. doppio scarico, bellissimo il sound, stupendo, scritta anche qua dietro 4x4 e TRX a ricordare il tipo di allestimento. L'apertura del cassone ammortizzata, con tutte le guide, sistemi per legare e caricare la vostra merce, con la vernice antigraffio, bello, grande e robusto, come piacciono a noi, il pick up fuoristrada vanno trattati male, questo è tutto infangato, proprio come piace a noi, ma andiamo a vedere dentro com'è. Ragazzi andiamo all'interno, vi aiuto con una GoPro per vedere tutti i dettagli, così non fatico troppo il buon Mattia. Portiera del guidatore con memorizzazioni per i sedili, regolazione finestrini, apertura e chiusura, specchi eccetera eccetera, belli materiali, pelle, con questa bellissima cucitura blu che ricorda essere una Lunar Edition. All'interno ragazzi, riconosciamo chi sta guardando questo video, gli piacciono, adora come me le auto americane, andiamo ad accendere il motore intanto. Bellissimo il display centrale, come vedete, con tutte le race option che possiamo andare a scegliere, qui c'è veramente da perderci la giornata, fare un video solo ed esclusivamente con tutti i parametri motore per vedere tutte le sue features, ok? Plancia in mezzo, qui ci starebbe seduto anche una persona, abbiamo addirittura due prese USB e USB-C, una presa AUX per ascoltare la musica, display centrale al quale si può cambiare con tutte le varie opzioni, parametri per il fuoristrada più estremo, che vi dicono l'angolo di giro, in questo caso il blocco del differenziale. Ovviamente bellissime sono le camere che danno una visuale, diciamo, completa in fuoristrada, questo è quello che io vedo davanti, quindi io muovendomi, diciamo adesso ci muoviamo piano piano per non affaticare troppo le riprese, però vedete, questo è quello che vedo davanti, utilissimo in fuoristrada quando si fanno dei percorsi magari in salita dove il cofano va a occludere la nostra visuale, bellissimi anche i pulsanti che possono andare a scegliere le varie opzioni di guida senza dover andare nel menu e impazzire a trovarle, ma ci sono sempre pronti qua da vedere, retrocamera importantissima per vedere dietro se schiaccio persone o cose, quadro di bordo, controlli in cui possiamo andare a vedere tutti i controlli e anche oscurare lo specchietto retrovisore e tutte le varie impostazioni, comunque ragazzi qui c'è veramente da perdersi, è tutto quello che ha un'auto moderna, cioè qua abbiamo un vascone che può contenere quasi uno zaino dalle sue dimensioni, sedili molto comodi e contenitivi per fare fuoristrada, raggi persona anche per il guidatore e per il passeggero. Ragazzi interni, anche posteriori, raggi persona per salire, comodissimo, tappeti in gomma appunto per non essere rovinati dal fango, il sedile era regolato sulla mia altezza, però guardate quanto spazio, io sono un metro e 75, guardate quanto spazio ho per le gambe, portabicchieri, no capolder ma portabicchieri anche per dietro, quattro le prese USB, due USB-C e due normali, sedili riscaldati, climatizzatore, controllo anche per i passeggeri dietro, tre posti davvero comodi, la macchina davvero molto larga, la cosa anche bella da vedere che mi sono dimenticato di dire prima, questo tetto apribile che può farvi godere veramente la natura al 100%, direi che c'è tutto quello che serve per la famiglia e per il lavoro. Ci siamo a bordo del Ram ma non il normale la versione TRX da 702 CV, un motore da 6.2 litri sovralimentato, siamo qui a Maggiora, una pista molto fangosa, ha piovuto molto, amici se anche voi siete appassionati di fuoristrada ma soprattutto di fuoristrada americani, qua fate tombola perché avete un motore che canta, che è un V8, sovralimentato e non poco. Da 702 CV è un 6.2 litri ed è praticamente come portare un camper a fare fuoristrada. Diciamo che le dimensioni sono notevoli però c'è da dire che ha il suo perché, è divertente e la potenza sicuramente non è quella che manca. Guardate, c'è veramente da divertirsi. Qui abbiamo le quattro modalità diciamo per la guida in fuoristrada che sono molto comode qui pronte per essere usate e non all'interno del menu, anche se abbiamo un bellissimo display verticale, molto generoso, dove possiamo settare tutte le modalità, abbiamo anche la modalità race, abbiamo anche una cosa molto inusuale per un fuoristrada, il launch control. Per l'auto nel segmento che stiamo provando è un po' un'eccezione e fa 1.0-100 in 4.3 secondi. Ragazzi c'è da divertirsi qui di birra, ce n'è finché volete. Non so se vi capiterà di girare in un autocross come stiamo facendo noi ma se dovete capitarvi vi assicuro che il divertimento non manca. Ma certo i mezzi americani sappiamo che sono noti, non diciamo per il loro downsizing ma per il contrario. Quindi 2.900 kg si sentono, non si può dire che non si sentono. Però anche se lo si prova all'interno di aree buschive con sentieri stretti e strade non proprio adatte, come pensate, studiate per un mezzo del genere, dà comunque le proprie soddisfazioni a un buonissimo, vi faccio vedere, guardate, un buonissimo angolo di sterzo, quindi se siete in difficoltà e dovete sterzare, riuscite a farlo, guardate questa è la pista, non dico che riesco a girarmi, però quasi, guardate come sono arrivato quasi a riuscire a girarmi, quindi non spaventatevi, dite per le strade europee, non è adatto perché ha un angolo di sterzo troppo tirchio, invece no, si gira molto bene e ha una buona maneggevolezza. Il volante è molto bello, il vestito che lui è in Alcantara, controlli al volante, una gran bella auto. Grazie per la visione!